A tentato di violentare una minorenne mai stato bloccato in tempo e arrestato. Accanto a Monbello è finito un 63enne. Non sarà facile, ma tecnicamente il governo rende possibile vaccinarsi per la seconda dose mentre si è in vacanza. O recontate per l'instabilità che sta caratterizzando questi giorni impedendo l'avvio dell'estate, ma il weekend regalerà sole e caldo. Presentato ufficialmente Filippo Inzaghi con Massimo Cellino stamattina allo store del Brescia, Salvezza e poi Serie A, gli obiettivi. Qui lo sai, quando c'è il sole è fantastico, ma è quando viene giù che diamo il meglio. Abbiamo il coraggio di guardare lontano, negli affetti come nel lavoro. Abbiamo le nostre abitudini, ci piacciono le stesse cose. E con la forza dei nostri soci viviamo lo stesso territorio da sempre, per creare opportunità e affiancarti nei tuoi sogni e nelle scelte di vita. Ti aspettiamo in BCC Agro Bresciano. Ci riconosceremo al volo. Buonasera dal telegiornale. In primo piano c'è la cronaca, come avete sentito dai titoli, con una storia brutta, bruttissima. Un tentativo di violenza sessuale in treno ad opera di un 63enne che ha tentato di violentare una minorenne. Una volta salito sul treno regionale Brescia-Parma nella stazione del capoluogo, quest'uomo di 63 anni si è seduto accanto a una giovane con meno di 18 anni e ha iniziato a molestarla. Stando alle testimonianze degli altri viaggiatori, che hanno subito chiamato il 112, lo stupratore ha prima iniziato a palpeggiare la giovane sui fianchi e sulle gambe, per poi proseguire bloccandole la testa e baciandola contro la sua volontà. Quest'incubo è terminato poco dopo alla stazione di San Zeno Naviglio, dove la ragazza è stata portata in salvo dai carabinieri di Brescia intervenuti sul convoglio. I militari fanno sapere che la vittima non ha riportato ferite, ma questo non rende meno esecrabile lo stupro consumatosi quella notte. L'uomo è stato immediatamente identificato dalle divise e le indagini hanno permesso di raccogliere tutti gli elementi probatori necessari per cristallizzare le responsabilità dell'indiziato in modo incontrovertibile. A questo punto la Procura della Repubblica di Brescia ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare e l'uomo è stato quindi trasferito a Canton Monbello. Apriamo la pagina dedicata al Covid-19 con la notizia che abbiamo inserito anche nei titoli del nostro sommario, ovvero il generale Figliuolo rende tecnicamente possibile sottoporsi all'inoculazione della seconda dose, vaccinarsi per la seconda dose anche mentre si è in vacanza. Insomma, non sarà una pratica comune, ma è tecnicamente fattibile. Si devono però organizzare le regioni. Il presidente della conferenza delle regioni Fedriga mi ha chiesto la seconda dose in vacanza. Ho appena scritto e la risposta è positiva, ma toccherà alle regioni organizzarsi. Lo ha detto il commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 generale Francesco Paolo Figliuolo ai microfoni di 24 mattino su Radio 24, facendo segnare così una svolta decisiva e più volte richiesta dalle regioni. Ora siamo concentrati su giugno e luglio, la sfida si vince in questi due mesi. Ad agosto, ha spiegato Figliuolo, ci potrebbe essere una piccola flessione, ma io voglio invitare gli italiani a continuare ad aderire alla campagna vaccinale. In riferimento al target settimanale, il commissario ha confermato i 550.000 vaccini, ma dalla prossima settimana vogliamo fare oltre, subordinato all'arrivo dei vaccini a luglio. Per giugno mi accontento di 500-600.000 vaccinazioni al giorno, ha detto Figliuolo. Oggi, ha aggiunto ancora il commissario Figliuolo, siamo oltre 39 milioni di somministrazioni, quasi il 48% ha ricevuto la prima dose. L'efficienza della macchina erogatrice è di oltre il 90%, ha aggiunto spiegando che saranno attivati fino a 840 hub vaccinali in Italia. E proprio con riguardo ai vaccini, ci sono delle nuove disposizioni per quanto riguarda proprio la seconda dose. Sono stati di fatto anticipati un po' i tempi per coloro che sono stati vaccinati con Pfizer e con Moderna. Da lunedì 28 giugno, la seconda dose della vaccinazione anti-Covid sarà proposta dal portale per la prenotazione dal 21esimo giorno per i vaccini Pfizer-BioNTech e dal 28esimo giorno per il vaccino Moderna. Resta invariato il limite dei 42 giorni come data massima di prenotazione della seconda dose vaccinale come da scheda tecnica del vaccino. Così, con una nota, la direzione del Welfare Lombardo ha comunicato l'anticipazione del richiamo per quanto riguarda i vaccini Pfizer e Moderna, con conseguente cambio nella pianificazione delle somministrazioni dall'atto della prenotazione. Prenotazione che è sempre possibile effettuare ora per tutte le categorie, non solo online, ma anche attraverso gli sportelli posta, ma ti porta lettere di poste italiane e il numero verde è 800-894-545. Andiamo da uno sguardo ai dati invece sulla diffusione del contagio nella nostra provincia e in regione, come sempre con la grafica della regione sul nostro sito internet. Covid scende ancora il tasso di positività a Brescia, ci sono 52 casi però, il tasso di positività scende dallo 0,8 di ieri allo 0,7% di oggi, vuol dire che con 43.271 tamponi, non pochi ovviamente, i nuovi casi positivi sono solo 322, 52 di questi sono a Brescia. Dagli ospedali, buone nuove sempre arrivano da tutti i nosocomi lombardi, due persone in meno ricoverate in terapia intensiva, oggi 143, e nei reparti ospedalieri sono 63 pazienti in meno. Il numero di decessi purtroppo rimane stabile ed è di 10 persone in Lombardia, non c'è nessuno nella nostra provincia nella giornata di quest'oggi. Voltiamo a pagina, parliamo invece di un provvedimento che ha preso la Prefettura in queste ultime ore contro gli incidenti sulle coste di Sant'Eusebio. Purtroppo è uno dei percorsi, è una delle strade in cui i motociclisti corrono in modo particolare, da qui l'intervento direttamente del Prefetto. Il Prefetto annuncia una stretta per le coste di Sant'Eusebio, ossia la strada provinciale 237, che è nota a molti come un'arteria spesso utilizzata dai motociclisti per sfrecciare a tutto gas. Basta una rapida ricerca su YouTube per trovare decine e decine di video di biker che affrontano il valico a folle velocità, anche oltre i 100 km orari, rischiando anche brutti incidenti. Dopo le numerose segnalazioni dei sindaci dei vari comuni attraversati dalle coste, arriva anche un tavolo ad hoc. La Prefettura era già stata allarmata sulla questione nel 2019, quando, a seguito di mirati studi e di un periodo di appostamenti da parte delle forze dell'ordine statali, provinciali e locali, furono installati dei dissuasori di velocità. Questi dissuasori, solo nei primi mesi del 2021, hanno rilevato la bellezza di 9.348 passaggi al di sopra della velocità consentita. Non è possibile fare un confronto con i numeri del 2020 se si considera che la circolazione era pesantemente limitata, ma è sicuramente un numero altissimo. A distanza di un paio d'anni, quindi, la situazione sembra non essere migliorata e da qui la decisione di prendere ulteriori decisioni. Polizia stradale di Brescia e Polizia provinciale stanno ora lavorando per capire come agire per debellare questo pericoloso fenomeno, anche aumentando gli autovelox o cambiando la loro posizione. Un altro incidente invece sulle strade bresciane, un'auto che si è ribaltata sui binari a Sale Marasino. Per ragioni ancora tutte da chiarire, la sua automobile ha sbandato e si è ribaltata finendo sui binari della ferrovia. Il tutto è avvenuto a Sale Marasino attorno alle 23 di martedì sera. Subito è scattata in codice rosso tutta la macchina dei soccorsi, anche con l'intervento dell'eliambulanza decollata da Brescia. Il guidatore, un giovane di appena 23 anni, è stato estratto dalle lamiere della sua automobile dai vigili del fuoco e poi è stato affidato alle cure dei sanitari del 118. Dopo la stabilizzazione è stato ritrasportato al civile in codice giallo, dove è ancora ricoverato, ma non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. In via chiusure sono giunti anche i carabinieri di Marone e la polizia ferroviaria, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per cercare di ricostruire causa e dinamica dell'incidente. A Bagnolomella le condizioni del vaso cucca e delle sue acque sono fonte di preoccupazione da diverso tempo. Non solo, troppo spesso manifestano evidenti segni di inquinamento, ma talvolta sono accompagnate da una schiuma biancastra dall'aspetto poco salubre. Questo annoso problema ambientale, però, potrebbe finalmente avere fine, dopo accurate indagini svolte negli ultimi mesi a seguito delle numerose segnalazioni. Comune, ARPA e A2A hanno svolto alcune verifiche per risalire alla fonte dell'inquinamento e pare ci sia una soluzione. Le analisi effettuate sui campioni prelevati hanno portato all'identificazione di diverse sostanze contaminanti e quindi non facili da ricondurre a una precisa causa. Il tutto si è concluso martedì, quando è stata realizzata una videoispezione e si è utilizzato un piccolo robot che hanno permesso di collocare in via Gramsci la fonte del problema che faceva sentire i suoi effetti non solo sul vaso cucca, ma anche fino a Porzano. I tecnici hanno individuato un sistema di troppo pieno, realizzato probabilmente più di una decina di anni fa, che spostava dalla fogna le sostanze che hanno poi originato gli episodi di inquinamento. La successiva apertura del tombino ha poi confermato queste ipotesi, evidenziando il problema nella fognatura e il conseguente deflusso irregolare di materiale inquinato verso il vaso cucca. Una volta constatata la situazione, i tecnici di A2A sono intervenuti sul tombino e sul sistema di troppo pieno, trovando così quella che dovrebbe essere la soluzione definitiva. Le risse tra giovani che si stanno purtroppo moltiplicando, non solamente in città ma anche in provincia, nei paesi della provincia bresciana, arrivano in regione. Lo fanno con un'interrogazione a firma di Gabriele Barucco. Di episodi di risse ce ne sono stati fin troppi da quando le norme anti-covid si sono allentate ed è tornato possibile vivere un po' più la movida, tanto a Brescia quanto in provincia, dove segnalazioni arrivano ad esempio da Belizzole o da Salò. Ora questa situazione approda in consiglio regionale, con un'interrogazione firmata dal consigliere bresciano Gabriele Barucco. La richiesta del forzista è diretta all'assessore alla sicurezza Riccardo Decorato, con un caldo invito a porre massima attenzione su episodi di questo tipo e a contrastarli con un generale rafforzamento del presidio delle forze dell'ordine sul territorio e in particolar modo in quei punti definiti sensibili. Questo probabilmente anche in un'ottica di salvaguardia del turismo che non può subire nuove botte d'arresto o danni d'immagine in una fase di delicata ripartenza. Oggi ho depositato un'interrogazione indirizzata all'assessore alla sicurezza di Regione Lombardia Decorato a Fatto Sapere Barucco, in cui chiedo a seguito dei continui episodi di violenza e criminalità che si continuano a verificare a Salò, così come a Brescia e in tante altre mete turistiche della nostra provincia, di rafforzare il presidio sul territorio delle forze dell'ordine, al fine di scongiurare ulteriori episodi. Parliamo del meteo, della situazione meteorologica e di questa instabilità che ci accompagna da giorni impedendo di fatto all'estate di decollare. Sembra terminare, o perlomeno sembra alla fine questa instabilità perché dal weekend dovrebbero arrivare sole e temperature sopra i 30 gradi. Partiamo come sempre dall'immagine del satellite che ci mostra ampie zone di sereno in diverse aree dell'Italia. Però un po' di nuvole sono presenti all'estremo sud, in mattinata abbiamo avuto anche qualche piovasco nel Salento, in Calabria, sulla Messinese e poi qualche annuvolamento anche sulla fascia alpina-prealpina. Il fatto è che l'atmosfera è ancora instabile, quindi in realtà nelle prossime ore si formeranno nuove nuvole e nuovi temporali. Soprattutto Alpi-Prealpi, alta pianura padana e poi la dorsale appenninica con probabilmente sconfinamenti anche verso le zone costiere, specie del Tirreno, a partire anche dal Levante Ligure. Meglio invece sull'Adriatico, sullo Ionio, lì non mancano ampie zone di sereno e resisteranno anche nelle prossime ore. Poi, tra domani e dopo, piano piano situazioni che iniziano ad essere un po' più stabile. Pressione atmosferica in aumento, infatti sul Mediterraneo e centro-occidentale, anche se un minimo di variabilità sarà ancora presente, quindi specie a ridosso delle zone montuose, qualche acquazzone nuovamente si formerà. Invece, se ci spostiamo verso il weekend, questa probabilità di pioggia diventa ancora più bassa. Fine settimana, direi, da piena estate, solo all'estremo sud un minimo di variabilità e soprattutto nel weekend il caldo inizierà a farsi sentire. Attenzione, al nord supereremo anche abbondantemente i 30 gradi. Per sapere nel dettaglio comunque come andranno le cose proprio da voi, scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo. 30 secondi di pausa, poi apriamo il nostro TG Sport e dobbiamo raccontarvi dell'arrivo di Inzaghi e della sua presentazione ufficiale questa mattina allo store del Brescia. Rimanete con noi. Puoi rivedere questa edizione del telegiornale nella sezione e-live play del nostro sito internet o riascoltarla in versione podcast su Spotify, Apple Podcast, Spreaker e Google Podcast. Care amiche, da oggi si può. Stirare al massimo e senza pieghe finalmente è possibile. Termostir, creata per realizzare il vostro sogno. A casa o in stireria, la vostra garanzia. Buona serata agli amici sportivi. Allora Inzaghi, ufficialmente presentato questa mattina nello store del Brescia, solamente alla stampa. Numero limitatissimo di giornalisti, contingentato appunto gli ingressi allo store che, come molti sapranno, non è particolarmente ampio. il presidente Cellino direttamente ha di fatto presentato e motivato la scelta di Inzaghi e poi appunto le parole di Inzaghi. Sentiamo. Pippo, Pippo, ole 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 Pippo, Pippo, ole 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 Pippo, Pippo Si è scelto lui, lo ha scelto perché mi ha trasmesso l'entusiasmo e tanta voglia di allenare. Cosa oggi molto bellata, nella nostra Repoderma. e la prima cosa che gli ho detto, parlano tutti in Serie A, di promozione, nascondere che noi vogliamo vincere sarebbe un bugia, ma prima di andare in Serie A bisogna mettere la Serie B. Se noi non ci rendiamo conto che cosa sia difficile, che cosa sia complesso il calcio al giorno d'oggi. Perciò è un buon anno d'attore, c'è un programma biennale, non annuale, è venuto qui per darci un buon calcio e per aiutarci a crescere e a vincere qualche partita. Perciò sempre prima saldarsi, per pensare adesso. Buon lavoro. Quello che mi ha convinto è stato sicuramente l'entusiasmo del presidente che mi ha fatto fin dalla prima volta che ci siamo sentiti sentire importante, ma soprattutto mi è piaciuto quello che ha detto adesso. Perché è chiaro che non è sinonimo prendere un allenatore che magari ha già vinto un campionato e è sinonimo di vincere. E questa è una cosa che mi ha colpito molto. Proprio queste parole sono parole che condivido in pieno. perché sennò è troppo facile legare un allenatore a una promozione. Ci sarà da soffrire, da gioire, da lottare. Però le parole del presidente sono oltre al fatto di venire in una piazza molto prestigiosa che ha voglia di calcio, che mi ha sempre impressionato quando venivo a giocare a Brescia per attaccamento, per voglia di vincere. Per cui tutte le cose, ma in questo momento avevo bisogno di un progetto che avesse razionalità, che avesse convinzione che sarà difficile poter vincere. Però chi fa questo lavoro vuole vincere, per cui noi cercheremo di fare il massimo, ma sapendo delle difficoltà che si andrà ad affrontare, la Serie B sarà un campionato esaltante, penso, perché ci sono tantissime squadre forti, come è sempre stata la Serie B. Noi abbiamo tanti giovani bravi e anche questa è stata una cosa che mi ha spinto, perché qui io conosco bene la squadra, poi la allenerò, ma vedendola da fuori, anche nei play-off, la rincorsa che ha fatto era una squadra che mi piaceva per atteggiamento, per voglia, per i tanti giovani che ci sono molto bravi, che hanno margini di miglioramento. E tutto questo ha fatto sì che io non guardassi la categoria, non mi interessa niente, qualche anno fa sono andato in Lega Pro, a me non interessa la categoria, mi interessa sentire la fiducia, essere stimato, essere supportato, ma avere gli stessi programmi, quando ho sentito il Presidente, che è stato molto convincente, mi ha fatto sentire importante, e quando di solito è così, io riesco, insieme al mio staff, riusciamo a dare il meglio. Questo era ovviamente una parte dell'intervento della conferenza stampa di questa mattina, integrale, la trovate sul nostro sito internet, è livebrescia.tv, e poi ovviamente, se volete, rimanete con noi, e dopo il telegiornale, tutta la conferenza stampa di Filippo Inzaghi, questa mattina, allo store del Brescia. Parliamo ora di palanuoto, invece perché c'è un'altra squadra che quest'anno ha suggellato la stagione con tanti record e tanti buoni risultati. Innanzitutto lo scudetto, perché sono campione in Italia, stiamo parlando della N-Brescia, e poi il terzo posto in Europa. Sono stati ricevuti dal Sindaco in loggia, le parole del Capitano, Cristian Presciutti. Ebbè, è stato uno scudetto unico, perché dopo nove anni di sconfitte, no di sconfitte, di secondi posti, perché comunque alla fine, io il mio motto lo dico sempre, non perdo mai, o vinco o imparo sempre qualcosa. Quindi ogni anno, siamo cresciuti sempre di più, e quest'anno abbiamo coronato veramente un sogno, devo dire. Un po' lo scudetto anche della rinascita, della rinascita, penso anche di una città, che è stata colpita duramente in questi anni, e che nonostante questo ci stimolavano, ci incitavano per poter proseguire, e per poter portare a casa il successo. Quindi ho avuto così tanti attestati di stima, soprattutto in città, che mi ha fatto veramente piacere dare loro questo risultato. ero curioso, perché sapevo che potevamo fare delle grandi serie finali, poi dopo tanti anni che non tornavano i play-off, e il play-off non è una gara secca, lì è più una questione mentale, che vincere una partita sola. Dopo che abbiamo vinto la prima lì, ho visto loro diversi rispetto agli altri anni, e quindi ho detto ragazzi, quest'anno possiamo farcela, li vedo veramente che hanno timore noi, quindi siamo andati forti e ci siamo riusciti. Ci fermiamo qui con questa edizione del telegiornale, vi ricordo che tutte le notizie come sempre le trovate sul nostro sito internet, livebrescia.tv, sul quale trovate la diretta del nostro canale 16197 del Digitale Terrestre, e le notizie possono aggiungere anche il vostro cellulare direttamente nell'account Telegram, se vi iscrivete ai nostri canali Telegram e Live Brescia News, oppure Live Brescia Sport. Grazie per aver scelto il nostro telegiornale anche stasera, sigla, e poi alle 19.30, come vi anticipavo, l'appuntamento sarà con la conferenza stampa di Filippo Inzaghi, questa mattina, allo store del Brescia Calcio. Da parte mia, buona serata e a domani. Puoi rivedere questa edizione del telegiornale nella sezione E-Live Play del nostro sito internet. Puoi riascoltarla in versione podcast su Spotify, Apple Podcast, Spreaker e Google Podcast.